Fiesta all'italiana, pubblicato dall'edizione Nuova Ipsi Editore, è un libro nato da un'esperienza televisiva che ho fatto in prima persona in un reality show. Quanto è reale un reality show? E quanto è reale la vita? Il libro cerca di rispondere a questo, ma non è sempre facile. È qui che il paranormale potrebbe esserci d'aiuto, ma come esemplificazione, se il paranormale serve a rendere la realtà concreta, ecco che il quotidiano ricostruito in un reality show ne mostra la falsità. Le onde televisive non sono della stessa consistenza della vita e la vita non è altro che il teatro in cui un reality show si svolge. Il protagonista cerca una donna, forse la trova, forse no. Cos'è falso? Cos'è vero? Cos'è la televisione? Cos'è la vita? A metà tra il romanzo e il saggio cerchiamo di rispondere in Fiesta all'italiana. Grazie.